Viso form bagno, pulito, sicuro, fresco e disinfattato. La pazza familiola dove tutti hanno voce in capitolo, ora ha due amici nuovi di zecca. Non ti voglio più vedere, mai più! Sarà difficile, io vivo qui. Con le voci di Monica Vitti e Renato Pozzetto. Oh, i miei poveri timpani. Siamo sul nevrotico, eh? Senti chi parla, adesso. In Prima TV, lunedì 20.50, canale 5. Tutto il mio oro avrete, se coraggiosi vi dimostrerete. Ecco il mio oro, è tutto per voi. Che fame! Pastoncini di Merruzzo Fintus, fantastici! Ford Ka. Ci vediamo il 9 novembre. Woody! Ma dove sono? Eccoli! Ehi, c'è una novità. Riguarda noi giocattoli. Siete già in videocassetta. Disney Video presenta Toy Story, un'incredibile avventura nel mondo dei giocattoli. La nuova dimensione del divertimento. Guardate! Guardate! Lo riguardiamo! Toy Story, una classica storia Disney tutta nuova. Ehi, sapete cosa ci regala Tegolino? Due Tegolini in più! Soffice pan di spagna, gustoso cacao magro e la golosa leggerezza dei Tegolini mulino bianco. E oggi, due in più sono gratis. Magico! Che vietimi tutto, ma non il mio Braille. Basta, basta, basta. Quando è il momento di dare di più? Pocket Coffee. La carica del caffè, l'energia del cioccolato. Pocket Coffee Ferrero. L'Elievra è un'azienda francese storica che produce tessuti d'alto livello. DHL lavora al nostro fianco. È la nostra immagine che viaggia nel mondo. Al cliente non dico mai no. E DHL non mi dice mai no. DHL. Manteniamo le vostre promesse. McCallum, sono io. Sei pronto per me? Da quanti anni sono qui? Da cinque anni. No, non bastano. C'è un solo whisky di malto che riposa ancora in botti da sherry per almeno sette anni, prima di incontrare una bottiglia. McCallum? Sì? No, niente. McCallum, il gusto di sapere aspettare. Opel Vectra unisce arte e tecnologia per rendervi la vita più bella e più sicura. Motori multivalfore, benzina e diesel. Climatizzatore ecologico Full-size airbag ABS elettronico Servo Stenzo Opel Vectra Climatic Arte in movimento X-Files Il film Che cos'è? La prova che il governo sa dell'esistenza degli extraterrestri da almeno 50 anni. Marti, tutti in retto! Voglio moldere, voglio quei documenti! A volte cercare la verità può essere molto, molto pericoloso. Stia attento, la ucciderà. Sarà qualcuno di cui si figlia. Per la prima volta in televisione, la versione integrale del film di X-Files. Noi non sentiamo. Stia a sentire. Smaschererò lei e il suo progetto. Siete al capolino. Il file da non aprire. Domani sera alle 20.30 su Italia 1.